Giovedì 31 maggio, buongiorno a tutti cari telespettatori di FanoTV, benvenuti alla rassegna stampa di oggi. E allora cominciamo subito dai giornali, anzi dal santo e poi ai giornali. Vediamo il santo di oggi, il santo più che santo è un ricordo, il ricordo della visita di Maria Santissima, della Beata Vergine Maria a sua cugina Santa Elisabetta e lo fa la Chiesa oggi a conclusione del mese mariano, il mese notoriamente dedicato e che la devozione dei cristiani è per Maria. Il sole è sorto alle 5.29 e tramonterà alle 20.43. Il tempo oggi sarà ancora incerto, dalla tarda mattinata avremo rovescio e temporali sparsi nelle zone montare e collinari, localmente assumeranno caratteri di forte intensità e in esaurimento nel tardo pomeriggio e sera. Per domani, primo giugno, ancora cielo sereno, poco nuvoloso, con nuvolosità nelle zone della montagna e anche collinari, soprattutto nel sud della regione. Per il resto avremo nuvole alternate a schiarite. Sabato 2 giugno il tempo migliora con le temperature che sono in lieve diminuzione, soprattutto quelle della notte, un po' di venti di brezza tesa. Il resto, insomma, come vedete dalla grafica, ci sarà sole e qualche nuvoletta. Ma per la giornata di domenica è probabile che ci sia un peggioramento, così come l'inizio della prossima settimana, ma è tutto da verificare. Allora, cominciamo con i giornali, apriamo il Corriere Adriato con l'edizione di Pesaro Urbino. In primo piano, il delitto Lulli, doppio ergastolo, Mario come Igli, niente sconti. La mamma di Ismaele in aula dice adesso, mio figlio potrà riposare in pace. Nella seconda pagina, la pagina interna del Corriere Adriatico, l'omicidio di Ismaele Lulli, in appello l'ergastolo dunque per Igli Meta e Mario Mema, tolta la premeditazione a Igli e aggiunta l'aggravante delle sevizie per entrambi. La Corte di Assise d'Appello di Ancona, dopo due ore di Camera di Consiglio, ha condannato la pena più severa, i due amici e complici accusati in concorso di omicidio. E per chi se lo fosse dimenticato, ma è difficile dimenticarsi di questo efferato omicidio, tutto è successo il 19 luglio del 2015, quando un ragazzino di 17 anni, lo vedete in questa fotografia, viene attirato a San Martino in Selva Nera, vicino a Sant'Angelo Invado, con un tranello e poi ucciso da questi due ragazzi che poi vengono scoperti, arrestati e che adesso dovranno scontare fino all'ultimo giorno della loro vita l'ergastolo. E poi c'è Ambera, una ragazza che nel maggio del 2017 viene iscritta nel registro degli indagati e adesso, questa intanto è la mamma, Deborah Lulli, che insieme agli amici del figlio Ismaele ieri erano ad Ancona. Deborah sempre con gli amici di famiglia presenti ad ogni udienza, entrambi hanno poi, mentre il giornale ricorda che sia Mario che Igli hanno rilasciato dichiarazioni spontanee, chiedendo scusa ma negando le colpe, gli amici di famiglia, dicevo, hanno manifestato con striscioni davanti al tribunale di Ancona. Su Marinelli, Marinelli l'imprenditore delle cucine, la verità dall'autopsia, l'esame potrà chiarire i dubbi sull'improvviso decesso del mobiliere, ma non avverrà prima di lunedì. L'incarico conferito ad un medico legale di Bologna, incredulità e cordoglio nei messaggi alla famiglia. Sono ore d'attese dunque, anche perché la procura di Pesaro vuole vederci chiaro sulla morte dell'imprenditore. Trovato morto senza vita nel suo letto, nell'appartamento di Villa Olga, martedì mattina, un lutto improvviso a 46 anni, ancora da compiere. Il mobiliere aveva subito un intervento alla gola qualche settimana fa, ma non sembravano esserci particolari complicanze. E poi da Fano, spaccia droga a 14 anni, segnalati tre assuntori, controlli mirati della Polizia di Stato nella zona mare vicino alle scuole. Questa è la fotografia che dimostra appunto come ieri nella zona del mare sono stati controllati alcuni giovani, pattuglie di polizia e anche unità cinofile davanti alle scuole di Fano, nei parchi, in alcuni esercizi pubblici e anche in altri luoghi frequentati dai giovani, soprattutto nella zona mare. Nei giorni scorsi sono stati effettuati alcuni controlli straordinari, anche perché, non voglio spaventare nessuno, c'è un articolo di Don Antonio Mazzi su Famiglia Cristiana di questa settimana, dove Don Antonio lancia l'allarme e dice voi non avete idea di quanta roba circola nelle nostre città e di quanto sia facile reperirle. Sono cose che hanno dei nomi anche sconosciuti, ma sono accessibili praticamente a tutti. e soprattutto anche a ragazzini di 13-14 anni. Una cosa, è un articolo allucinante ed è quello che sta succedendo. E questa è l'attività della polizia che giustamente fa il suo lavoro, ma non è tutto. Impianto Zengherini, cambiamo pagina, sempre dal Corriere Adriatico. L'impianto Zengherini è chiuso, il calcestruzzo, come vedete dalla fotografia, va in pezzi. Ieri chiuso, oggi probabilmente anche al più tardi domani, comunque dovrebbe riprendere a funzionare. Dipende dai tempi tecnici che richiederanno il transennamento di uno spicchio dell'area ridosso della tribuna centrale proprio nel punto in cui non smettono di venire via parti di copriferro e soprattutto l'affidamento provvisorio alla gestione della struttura dell'atletica Avis che l'ha avuta in carico fino all'altro giorno quando la concessione poi è scaduta. E poi c'è di spalla qui un articoletto piccolino ma che è di grande impatto emotivo perché dopo cento anni, pensate, tutti sappiamo dove stanno perlomeno i fanesi la scuola d'arte, la scuola d'arte a Polloni che sta nel Palazzo Marcolini. Ebbene, alle 18.30, dopo cento anni, questi ragazzi dell'Istituto d'Arte lasceranno questa scuola, questo istituto perché verrà trasferito il prossimo anno nella sede decentrata dell'Istituto Battisti nel quartiere di San Lazzaro. Ser Filippi e quindi la politica, Luca Ser Filippi che è al centro in questi giorni del dibattito politico soprattutto per la sua scelta di iscriversi, aderire alla Lega, lui adesso dice io in città resto però con la tua Fano, il consigliere conferma l'iscrizione e il sostegno alla Lega per provincia, regione e paese però, insomma, su Fano dice io rimango qui. Dunque aderisce alla Lega in punta di piedi dichiarandosi disinteressato senza mire di alcun tipo né in vista della ventilata candidatura come sindaco del centro-destra fanese anche se dichiara è un discorso del tutto prematuro, né in proiezione di altri eventuali incarichi elettorali. Dalla Valle del Cesano via al restyling del parcheggio, i commercianti ora siamo stati ascoltati stalli a spina di pesce e discorario, così si agevolano i nostri clienti vedete i lavori in via Ferrari a Marotta con il sopralluogo del sindaco Barbieri dove appunto si rifanno le strisce a terra. Il sindaco annuncia interventi anche a Mondolfo per la mobilità sostenibile sempre dal Corriere Adriatico, questa volta da Terre Roveresche questo è il campetto di calcio di Rupoli di Orciano un campetto lasciato praticamente nel degrado. Pessimo esempio del comune la minoranza attacca il sindaco Sebastianelli e dice usi i fondi della fusione Piscina rumorosa, siamo a Pesero, ci sono circa 600 condomini, residence lungofoglia che di notte non riescono a dormire, perché? Perché la nuova piscina, quella del Pentathlon ha un impianto che di notte funziona al 50% però fa un rumore incredibile e il vicepresidente della federazione Pentathlon Fabrizio Bittner ha detto sì conosciamo il problema, conosciamo l'esposto e le lettere che i residenti hanno inviato e quindi adesso cerchiamo di risolvere il problema, così vuole la federazione abbiamo individuato la fonte, si stanno effettuando le misurazioni da Senigallia invece Sciacalli rubano anche nelle scuole Corinaldesi senza pace, questo è il sesto furto, la preside dice ora basta mettiamo le telecamere, la banda degli spiccioli punta ai distributori di Bibite vedete la preside Gionmetti mentre mostra i danni provocati appunto da questa banda di distributori, questo è il sesto ride compiuto all'interno della scuola insomma giustamente non se ne può più, l'ultimo ride è successo martedì la pagina di Urbino invece si occupa della politica, perché? perché l'intelligenza ha scelto il nuovo sindaco e dunque è l'onday l'endorsement ovvero le buone parole rivolte a l'onday sono da parte di pesanti endorsement pesante nel senso di grandi firme, grandi personaggi come Malerba Pier Santi, De Santi, Feligiotti e Carrabs che dicono bentornato aspetta che ve lo voglio leggere un po' meglio qua, l'avevo letto poco fa dunque ritengo che l'impegno di Urbino Capoluogo, l'associazione presieduta da Giorgio Londei, sottolinea Floriano De Santi, vada nella direzione di restituire alla città di Urbino non soltanto autonomia e competenze ma soprattutto la sua più vera immagine del resto l'onday se diventasse sindaco come ci auspichiamo della città di Sipare Ducale titolo di un famoso romanzo di Paolo Volponi sarebbe l'intellettuale e il politicus al posto giusto infine Bruno Malerba dice bentornato l'onday la città ha un disperato bisogno di recuperarsi di ritrovare un significato, di uscire da quel pasticciato cerchio vuoto disegnato su una lavagna nera perché c'è di mezzo la qualità della nostra vita ecco questo è il problema di quelli di sinistra che non hanno capito che ergersi sul piedistallo tutte le volte e dire noi siamo i più intelligenti gli altri sono tutti deficienti ecco questi hanno già vi hanno già fatto perdere lezioni miliardi di volte ancora non hanno capito però continuano a dire noi siamo intelligenti gli altri non capiscono niente vabbè vedremo come andrà a finire anche Urbino non che io debba difendere Gambini manco lo conosco autisti scuolabus protestano la Tundo ci paga in ritardo intervengono i sindacati ci sono lavoratori che ancora aspettano la tredicesima questo accade a Vallefoglia c'è anche il territorio di Vallefoglia coinvolto nella difficile e delicata situazione che stanno vivendo da mesi circa 70 autisti della Tundo la ditta pugliese che ha in carico l'appalto per il trasporto pubblico scolastico in diversi comuni della provincia tra i quali Pesero, Fano, Petriano, Fermignano, Monteciccardo, Gabicemare appunto Vallefoglia questi autisti che non ricevono soldi per i sindacati CGL e CISL si chiedono che sorte avranno poi questi dipendenti dopo che tra qualche giorno chiuderanno le scuole per l'estate e adesso invece andiamo a vedere il resto del Carlino la prima pagina è per questo signore guardate qua 105 anni è stato operato al femore ed è sorretto non solo da questa struttura ma anche da questi dottori, infermieri insomma come dire è stato bravo il Ilario Caporaletti che è tornato a frontone dall'ospedale di Urbino erano 70 anni pensate che il signor Caporaletti non veniva ricoverato in ospedale quindi è stato 70 anni tranquillo a casa sua e poi dopo ahimè purtroppo ha dovuto far ricorso al bisturi Ismaele l'appello in Chioda Mario dopo Iglier Gastolo anche per lui giudici nessuna premeditazione e poi a Marche Nord col nuovo acceleratore la radioterapia è già all'avanguardia è sotto un esposto per la piscina di Via Togliati perché è troppo rumorosa e allora sentite cosa scrive, cosa dice la mamma di Ismaele Lulli Deborah ieri ad Ancona ora tocca ad Ambera, anche lei deve pagare ora è il turno suo, voglio l'ergastolo anche per lei ha le sue colpe, anzi moralmente è quella che ha più colpe di tutti perché se non fosse stato per lei Ismaele non sarebbe andato a quell'appuntamento ma sarebbe ancora tra noi, non l'ho detto io sono parole del giudice Marinelli, aspetto di vederla in aula purtroppo ancora è libera e questo insomma non è giusto Marinelli, programmi fino all'ultimo si parla dell'eredità complessa l'azienda che ha costruito appunto questo signore, questo imprenditore pesarese è una proprietà, il 100% era sua adesso rimarrà a moglie e figlio si dovrà decidere però a chi affidare i ruoli dirigenziali della società di cucina negli ultimi mesi in azienda si erano impegnati anche il padre e il fratello ma per chi non lo sapesse questa Marinelli cucine ha 250 operai più l'indotto, 105 milioni di fatturato il problema viene detto si porrà tra una decina di giorni Marinelli infatti era titolare al 100% della Marinelli cucine ed ora il 50% per legge va al figlio Alessandro che ha 9 anni e l'altro 50% la moglie Simona Biagini mentre a centro pagina si parla dell'inchiesta su questa morte perché la polizia adesso setaccia le immagini delle telecamere nella zona del mare intanto il nulla a osta per i funerali non sarà a breve scrive Elisabetta Rossi il nulla a osta c'è ora ancora del tempo Marinelli soffriva da tempo di una infezione alle vie respiratorie l'altra sera aveva detto che faceva fatica a respirare nonostante le insistenze del medico curante e della famiglia lui ha detto no ci vado domani almeno così avrebbe detto qualche ora dopo però è morto nel cuore della notte Filippo ecco questa è una buona notizia invece ricorderete lo schianto di lunedì scorso in Viale Gorizia quel ragazzino di 17 anni con il suo motorino che è stato trascinato per alcuni metri da questo furgoncino che non si è fermato secondo quanto ricostruito dalla polizia locale dando la precedenza al motorino era guidato da un quarantenne ebbene il ragazzino di 17 anni di Pesaro adesso sta reagendo la tempra regge Dancona verrà a Pesaro è già stato operato la milza sarà di nuovo trasferito però insomma sta andando bene quindi bravo lui gli amici probabilmente in tanti pregheranno per lui quindi sta andando bene tanto è stato aperto un fascicolo per lesioni gravi rischia la revoca della patente fino a 5 anni ma prima di andare in onda parlando con Riccardo il regista dicevo non so se è una cosa che ho notato soltanto io e ne approfitto per questa cosa perché è venuto fuori che non ha dato le precedenze ma al di là di questo non so vi è mai capitato di essere in automobile di essere non so sulla strada principale quindi aver diritto di passare e poi a un certo punto dalle laterali la gente si infila dentro non aspetta più ha lo stop ma non aspetta che tu passi si infila all'ultimo minuto quindi sei costretto a inchiodare cioè la gente non è più paziente è impaziente è impazzita per bene dire però è impaziente e questo succede già da un po' con i pedoni che ormai si buttano sulle strisce pedonali e non hanno più neanche la decenza di aspettare che tu capisci che stanno per attraversare le strisce quindi si buttano dentro quelli che vanno con la bicicletta sulle strisce pedonali e si infilano come se niente fosse quelli che al telefonino passano le strisce pedonali come se fosse una sfilata di moda tu devi guardare e aspettare che passino cioè bisognerebbe tornare all'educazione civica all'educazione stradale insomma a riavere un po' di educazione ma al di là di questo perché poi dopo vengono fuori questi incidenti qua che fanno piangere fanno piangere anche parecchio Furti la terza volta non la passa liscia siamo a Lucrezia di Cartoceto aveva già colpito un supermercato due volte ad ottobre del 2017 e la settimana scorsa e si prestava a farlo ancora ma il personale del negozio l'ha riconosciuta e quindi l'ha bloccata è successo l'altro ieri all'ex Aldi remercato di Lucrezia in via Flaminia lungo la Consolare e alla fine insomma è stata bloccata e quindi i militari sono arrivati subito sul posto hanno effettuato le opportune verifiche e hanno fugato ogni dubbio era lei la donna che aveva già una settimana fa trafugato quel negozio centinaia di euro di merce andiamo sulla pagina di Fano del resto del Carlino siamo in chiusura fermato Baby Puscher a solo 14 anni aveva appena ceduto marioana due coetanei all'esterno di una sala giochi gli agenti di polizia hanno fatto controlli mirati nelle scuole e nei luoghi di incontro ancora Sir Filippi sulla sua decisione di aderire alla Lega Sir Filippi su due dimensioni in aula resto con la tua Fano però si è iscritto alla Lega e partecipa ai gazebi il mio impegno civico continua nel locale ma solo con Salvini possiamo cambiare il paese poi ha fatto così ha fatto scatenare qualche polemica anche questa fotografia dove si vede questo appunto giovane Sir Filippi partecipare al Big Bang organizzato da Matteo Renzi e lui dice non ho mai partecipato alla Leopolda ma al Big Bang ossia l'evento di Renzi organizzato diversi anni fa con gli amministratori locali di spalle invece un articolo che lo riguarda un retroscena dove Marcheggiani del PD rivela mai offerto un posto in giunta a Luca con un retroscena però che sta qui in fondo in fondo all'articolo Pian del Bruscolo dopo cento anni dopo un secolo riapre le porte questa chiesetta questa chiesetta che si trova a Monte Labate da cento anni questa chiesetta della Madonna della Misericordia è detta anche della scuola che sorge poco distante dalle mura del castello di Monte Labate non veniva riaperta eppure adesso è riaperta c'è il rosario c'è tutto e questa è l'immagine e l'immagine anche di tanta gente che è a corsa per visitarla e per vederla e poi l'ultima pagina è quella di Urbino del resto del Carlino è qui la festa stasera silent party con le cuffie fino alle tre di notte bene ci fermiamo qui la rassegna stampa è finita grazie per essere stati con noi noi ci rivediamo stasera alle 20.30 con il telegiornale se avete segnalazioni 338 4968 250 5.0